E' stato trovato morto in un casolare abbandonato Sebastiano Spampinato, il giovane accusato di aver ucciso Jenny, la 27enne di Mister Bianco. Il delitto è avvenuto venerdì sera all'Ineri, frazione della cittadina del Catanese. La ragazza è stata raggiunta da diversi colpi di pistola pochi secondi dopo essere uscita dal panificio dove lavorava. L'ipotesi privilegiata dagli inquirenti è che Sebastiano Spampinato, 30 anni, si sia suicidato con un'arma da fuoco. Sul posto si sono recati i carabinieri del comando provinciale che indagano sull'omicidio. Intanto lunedì pomeriggio all'interno della frazione di Mister Bianco si è tenuta una fiaccolata per ricordare la giovane ragazza e dire no ad ogni forma di violenza. La nostra comunità, ha dichiarato il sindaco Marco Corsaro, è profondamente turbata da un fatto che ci addolora. Per questo abbiamo organizzato questa fiaccolata per dire no ad ogni forma di violenza. In Sicilia sono state ben 13 le donne uccise in appena un anno. Tra questa qualche mese fa, a pochi chilometri di distanza, sempre nel Catanese, Vanessa Zappalà. La ragazza venne uccisa quest'estate ad Acitrezza, frazione marinara del comune di Acicastello dall'ex finanzato poi trovato morto. Anche Vanessa lavorava in un panificio, anche lei è stata raggiunta, così come Jenny, mortalmente da diversi proiettili.